Notte di sangue sull'autostrada 1. A perdere la vita un ragazzo di 20 anni. Nel grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada 1 in direzione nord, sono rimaste coinvolte tre auto, il cui bilancio è appunto di una persona deceduta e tre ferite. La vittima era residente a Ripi, comune della provincia del Frusinate. Insieme a lui, nella Fiat Panda Rossa, viaggiavano altre due persone, tra le quali una donna ferita gravemente. Il sinistro risale alla serata di ieri, mercoledì 13 gennaio, ed è avvenuto nel tratto compreso tra Valmontone e San Cesareo. Le vetture si sono scontrate precisamente all'altezza del chilometro 584. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 21, la Fiat Panda Rossa ha rallentato la marcia, probabilmente a causa di un malfunzionamento ed è stata tamponata da un Alfa Romeo Giulietta, guidata da un uomo originario del Potentino. La vettura ha impattato violentemente contro il New Jersey, per poi finire contro una terza auto. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al ventenne. Per gli altri feriti è stato necessario il trasporto in ospedale. Il conducente della Giulietta è stato trasportato all'ospedale San Benedetto di Alatri, dove ha ricevuto una prognosi di 30 giorni ed è stato dimesso. Si indaga per omicidio stradale con il fascicolo a carico del pubblico ministero di Velletri.